Scusa, ma ancora a letto sei? Cioè, ma ti vuoi alzare che è mezzogiorno? Guarda che non è mica una vacanza questa, eh! Dai, forza! Ma pensa a te! Dai, preparati che andiamo a fare la spesa, forza! Ah, e comunque devi bere tantissimo te caldo perché ho letto su Facebook che uccide il virus. Senti, non ci vai a trovare il tuo fidanzatino, tu stai qua a casa, chiaro? O che tuo nonno, sapete, scriveva dalla trincea, a tua nonna, ok? Non per un giorno, non per due, ma per sei mesi. Quindi tu puoi stare qua due settimane e basta. Ah, e comunque sia chiaro che l'unica cosa che può distruggerti sono io, non il virus. Ti vuoi alzare dal letto? Hai sentito il telegiornale, eh? Mi raccomando, la distanza di sicurezza quando vai a fare la spesa, non abbracciare nessuno, lavati sempre bene le mani, ok? Non toccarti naso e bocca. Amore, ciao. Sì, no, volevo solo sapere come stavi. Mamma, sto bene. Lo so che è la quinta volta che ti chiamo durante il giorno, ma sono preoccupata. Posso da mamma preoccuparmi o non posso fare neanche questo? Guarda, io già non ce la faccio più, non vedo l'ora che torni a scuola. Credimi. Senti, ti sei lavata bene le mani? Mamma, manco me lo chiedo. Lo so che te l'ho chiesto un'ora fa, ma te lo richiedo ancora perché sono tua madre, ok? Ti sei lavata le mani? Dai, forza che la casa è grande e dobbiamo disinfettarla tutta. Forza, ogni angolo, mi raccomando. Come una squadra. Cioè, tutti a casa, nessuno fa un cazzo, eh? Cioè, grazie, veramente. Su e giù, su e giù. No, tutto il giorno Netflix, tutto il giorno al telefono, mangi, dormi, questo fai. Boh. Mi raccomando, bene, strofinate bene tutte le superfici così quel virus lo facciamo sparire. Oh, dai, adesso che sei a casa finalmente puoi aiutarmi con le pulizie. Forza. Comunque questo è il momento perfetto per portarti avanti con lo studio. Ciao, amore. Non mi abbracciare che mi infetti. Sì, ma signorina, cioè non è che adesso che sei a casa devi fare letto, divano, letto, divano tutto il giorno, eh? Amore di mamma, ciao. Hai sentito? Mi è appena arrivato un vocale su WhatsApp da un importantissimo dottore. Cioè, ma alzi il culo da quel divano, sì o no? Senti, me l'hanno mandato le mie amiche, ok? Quindi la vitamina C è importantissima e aiuta a contrastare il virus. Ti sei lavata le mani? Senti, allora, tu ne vuoi sapere più del medico, per favore? Ho appena mandato papà al supermercato a comprare quattro casse. Fallo anche tu, ok? E bevi un sacco di spremute a mamma, ok? Per 20 secondi. Scusa signorina, ma com'è che tutti hanno le lezioni online e tu no? Spiegami un po' sta cosa. No, scusa, ma sei impazzita? Ma non hai letto su Facebook che la casa deve prendere aria per far uscire il virus? Cioè... Senti, ma alzati un po' da quel divano, ma studia, fa qualcosa! Ma io queste d'aprile mi cacciano a me, ragazzi. Le ammazzo a tutti prima. Le mani, lavati le mani. Senti, ma a me non mi interessa, ok? Che i tuoi amici escono. Hai visto quei cretini là del video che vanno a fare gli aperitivi? Ma dov'è che vuoi andare? Ma me lo spieghi. Vuoi uscire? Esci, sappi che qua, però non entri più, eh, te lo dico. Anna? Ma veramente ancora a letto stai? Vieni, vieni un po' a sentire, senti? Senti il telegiornale cosa dice? Senti, senti! Senti a mamma, ma le mascherine le hai comprate? Sì? Sì, sì, continuate pure a fare i cazzi vostri. Cioè, voglio vedere poi se muoio. Cioè, che cosa fate? Vienete a piantare, mamma? Avevi ragione! Scusa, ma ci devi andare per forza al lavoro? Ma salta qualche giorno, no? Voglio dire. Cioè, sono dovute arrivare alla quarantena per farti stare un po' a casa. Cioè, incredibile. Ciao amore, sono sempre io. Ti sei lavata le mani? Oh, perfetto. Disinfettiamo tutto, ogni angolo, veramente. Perfetto. Oh, dobbiamo igienizzare ogni tipo di ambiente. Che a casa mia comando io. mica il coronavirus. Adios. Adios.